Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Dopo due anni di chiusura a causa pandemia, l'artistico presepe mobile del Settecento, realizzato nei locali della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire di Cava dei Tirreni, è tornata ad essere nuovamente visitabile. Un incantevole presepe in cui vi sono circa 150 pastori, di cui oltre 50 mobili e diverse scene settecentesche. Ai nostri microfoni il parroco Don Beniamino d'Arco ha invitato i cavesi e non solo a visitare l'artistico presepe durante le festività natalizie. Dopo i due anni di chiusura abbiamo riaperto i battenti del presepe, un presepe molto bello, molto particolare. Qualcuno che viene dice peccate che state fuori dal centro, è veramente da vedere. Ci sono più di cento pastori antichi, tutti con movimenti particolari, con degli scenari che vengono ricostruiti ogni anno. È un immergersi in un mondo che parla di tradizione, parla di spiritualità, parla di cultura. Tra le tante visite da fare, se avete cinque minuti, affacciatevi al presepe di Santa Lucia. Il pomeriggio lo trovate sempre aperto, la domenica mattina lo trovate anche aperto. Fino al fine gennaio è possibile sempre visitare il presepe.